Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Male, malissimo e Bellario. Se con la stella era stato aperto un conto con la dia bendata, a domicilio i ragazzi di Mugellisi subiscono la manita da rida che mette in evidenza soprattutto J6. Proprio lui, nelle primissime battute del match, dopo un'azione corale, deposita la sfera al lato. Ma la frittata è dietro l'angolo. Bellario che si fa male da solo. La cross della destra, Ferraro sporca la traiettoria con il pallone che si alza a campanile, divenendo un comodo invito per J6, infilarlo in fondo al sacco. A questo punto sembrerebbe già tutto fatto per il Reda, ma in Bellario ha quantomeno la bravura di trovare l'immediato pareggio. Da una punizione arriva la sponda di testa di Ferraro per il tocco sotto misura di esposito che fa 1-1. Parte opposta, dalla banderina Torres colpisce i palloni letteralmente con le braccia per il direttore di gara trattasi di rigore. Dagli 11 metri si presenta Conti, che porta così il vantaggio in suoi. Lo stesso Conti non approfitta, sul finire di tempo, di un liscio difensivo dalla difesa bellariesa, smorzando la concursione che viene tra l'altro deviato in corner. Ma nella ripresa il Reda trova da subito il 3-is, dalla banderina carne pesca libera Monti, che in girata fa 3-1. Villare che si fa vedere con Pari, tiro deviato in corner questa volta da Senofieri. Ma gli Adriatici insistono, rendendosi nuovamente pericolosi da calcio piazzato in ben due occasioni. Ferraro nel primo tentativo alza la mira, mentre nel secondo tentativo Pari c'entra il bersaglio, ma Senofieri si rifugia in corner. G6, il contropiede, sfiori il poker divorandosi un gol incredibile, prima di farsi perdonare al minuto 40. Tacco di Conti, l'attaccante in maglia numero 11, penetra in alia e batte Trezza nell'angolo alla sua sinistra. Nel finale, alto contropiede, questa volta di Can si fa tutto il campo, evita Trezza in uscita e deposita il panore del 5-1 in fondo al sacco.